Avis e Olmo Ponte insieme in questa bellissima giornata di sole, si mette insieme sport e anche donazione del sangue. Sì assolutamente, siamo qui con Olmo Ponte, società alla quale siamo uniti innanzitutto da valori comuni, da un importante spirito di collaborazione e ringraziamo la società per ospitarci in questa manifestazione così importante con afflusso di giovani sportivi da tutta Italia, delle loro famiglie e siamo qui a trasmettere il valore della donazione in questa giornata così particolare. E tra l'altro siamo a festeggiare in anticipo quella che è la giornata del 14 giugno, che è la giornata mondiale del donatore che è dedicata appunto alla donazione di sangue e quindi diciamo è il nostro modo di farci vedere, di continuare il nostro proseritismo anche in questa occasione. Presidente, una giornata importante per tutto lo sport che si ritrova proprio qui ad Arezzo. Sì, finalmente dopo due anni di pandemia siamo riusciti ad organizzare la decima edizione dell'Arezzo Cup e sta andando tutto bene, la giornata ci aiuta è caldo però non è drammatico come pensavamo e dai dal punto di vista sportivo tutto a posto. Ci tengo a questo connubio, chiamiamolo così, anche con l'Avis perché noi da sempre appianchiamo alle attività sportive altre attività probabilmente anche più importanti e promuoviamo sempre certi tipi di iniziative, chiaramente l'Avis è una di quelle più importanti.